Buongiorno, buongiorno, è lunedì, un lunedì cominciato con un bel sole sganascioso, proprio rideva, ce l'avete presente i soli quando vengono disegnati dai bambini, non tutti i bambini, mia nipote li faceva sempre con le bocche, anche Camilla dava sempre una faccina a tutto quello che la circondava, soprattutto al sole. Ah, che roba, è lunedì, cominciamo un'altra settimana, cercando di non farci abbattere, deprimere, scoraggiare, ma no, ma no, anche perché sappiamo che i cretini sono sempre stati, quella è una malattia tremenda, però che ci possiamo andare a fare? Dare gli esempi, dare le notizie, hai confrontato questo con quello? Dove ti informi? Ma sempre dalla stessa fonte? Paragona un po' chi sta e chi è là, guarda come si comportano, guarda che metodi, guarda che sono strategie, non vedi come tappano la bocca a chi? Quando, quando, in quale momento, no? Ci vorrebbe tanto, ci vorrebbe solo un po' di saggezza e di spirito critico, ma è poco diffuso, dipende da quanta scolarizzazione, no, 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 io vedo qua la mia giovanina di 80 anni, sarda, cresciuta in campagna, allo stato brado, lei mi racconta di quando era, è stata bambina, insomma, della sua mamma rimasta vedova giovane, con tanti bimbini da crescere, che avevano anche un po' di campagna, ma senza braccia per lavorarla, e racconta, racconta di tante cose, mi piace ascoltarle perché poi è così lontana dalla sua terra da tanto tempo e se la ricorda e poi si vede proprio, è proprio sarda, si vede, si vede, è bello quando si riconoscono le persone dei luoghi, provenienti da certi luoghi, poi, vabbè, lasciamo perdere certe cose, ma cosa vi volevo dire, che sono contenta che ci possiamo trovare di nuovo tutti, tutti quelli che avranno piacere di passare, di passare per il saluto matutino, ma chi passerà poi in seguito, benvenuti ai nuovi iscritti, alle nuove iscritte, buongiorno anche a voi, grazie, abbiamo superato le 800 iscrizioni, è tanto, è una cosa bella che non do per scontato, abbiamo superato le 300.000 visualizzazioni, è tanto, anche perché o si fa informazione o di vario genere, poi sapete in questo periodo qual è il magone generale, o si fanno tutorial, che sono proprio gli argomenti che attraggono di più, le chiacchiere così di compagnia attraggono un po' meno, è un pubblico che si seleziona da sé, e quindi, insomma, sono numeri grandi, è bello, io faccio caso, ad esempio, e mi dispiace quando magari non riesco a lasciare neanche un saluto, perché so che è uno spazio rifugio per molte persone, e io non è che posso fare miracoli, se sembra che le persone facciano miracoli, sappiamo bene che non sono loro, ma sono strumenti, ma ce ne sono di piccolini, ce ne sono di grandi, grandi grazie, piccole grazie, brutte, sgraziate, persone sgraziate, oh mamma mia, e mi dispiace quando non riesco ad avere modo di lasciare un ciao, e tipo quando sono state qua le mie ragazze, che sono ancora frullata adesso, sono stanca, mi hanno stancato e sfiancato, però è stato bello, meno male che si sono dimenticate in giro un po' di Natale, adesso mi sono accorta che questa libreria qua, è la mia libreria tematica, sono tutte tematiche, le librerie sparse per casa, c'è una bimbina sull'altalena, anche quella ricorda la mia infanzia, di Latta, mi piacciono le figurine di legno, mi piacciono quelle di pannolenci, di fibre infiltrite in genere, ma il vero pannolenci è bellissimo, pannolenci, panno di lenci, e mi piacciono le figurine di Latta, tanto, 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 ed è rimasta lì, poi mi sono accorta che abbiamo appunto le stelle, delle belle stelle che ha avuto Tiger, ha detto Camilla, pochissime ne sono arrivate, che si infilano nei vasi, con il bastoncino delle stelline non tanto grandi, saranno, che ne so, poi le misurerò 10-12 cm di diametro, insomma la parte più larga, ma sono carine, stilizzate, tun tun, leon filate, nei vasi che ho davanti alla finestrella, nell'ingresso, dalla finestrella della cucina e quella del bagno, e ho deciso, visto che dobbiamo smaltire ancora un po' di batterie, perché sono tutte luminarie a batterie, non da esterno, però ho tenuto verso casa la scatoletta delle batterie, tanto le mie non sono finestre a serratura stagna, morgo un po', certi spifferi, e quindi le accenderò, perché così una luce nella notte ogni tanto, avete visto che ho una lanternina appesa alla campana di ottone, nella terrazza, ogni tanto li metto i lumini la sera, un po' come un faro, i fari sono rassicuranti, sono importanti, e allora ogni tanto, per le mie preferite, metto il lumino lì, penso a chi è in viaggio, magari quando ho i miei parenti in viaggio, quando Camilla è in viaggio, accendo i lumini nella sera, così, chissà, magari può riscaldare un corassone, un lumino, io penso di sì. Allora, ieri sera mi è successa una cosaccia, guardate qua, l'ho detto solo a una micca, una micca, sei una mia amica, tu che lo sai già, queste cosa sono, sono antistaminici, io devo sempre averli appresso, non sono neanche fortissimi, perché per i casi gravi devo partire e andare all'ospedale, e di questi tempi non ci si, è meglio evitare anche per una spina infilata, non si sa dove, purtroppo è così, purtroppo è così, ma per tutti, proprio, purtroppo, e quindi, ieri ho mangiato dei pesciolini, erano distanti da tutto, quello pericoloso per me, mi sono lasciata tentare, non ho mai fatto, cerco sempre di prenderli belli imbustati, però ho preso a palettate questi piccoli pesciolini, che non avevo mai mangiato qua, però non mi ricordo, avevo mangiato dei pesciolini di fiume, quando stavo in Lombardia, il coregone lo mangio, non mi dà nessun problema, che è un pesce di lago, qua abbiamo tanti laghetti intorno, abbiamo il lago di Bolsena a due passi, poi abbiamo il lago di Vico, il lago, non mi ricordo, ce l'abbiamo, il Lazio è pieno di laghi, laghi, laghini e laghetti, e insomma, l'ho saltati, l'ho arrostiti praticamente, l'ho passati un po' nella farina di riso, e ho scaldato la padella, che avevo unto leggermente, e le ho saltate, e mi piace il pesce, ma io il pesce lo adoro, proprio, me lo andavo a pescare, poi pescavo con il nonno, quindi insomma, vabbè, e fanno tanto bene per il calcio, perché si mangiano tutti interi, ecco, perché fa bene, ecco, non è il calcio del latte che fa bene, è il calcio che si assume attraverso altri alimenti, vabbè, comunque quello, se volete informarvi bene, insomma, basta fare delle comparazioni, vabbè, comunque lasciamo perdere, insomma, inizio a mangiarle, sento qualcosa di strano, vabbè, vado a leggere, comunque, sono i lattarini, quelli che, ricordo vagamente, i bianchetti, i gianchetti e i rossetti, non so se voi li conoscete, sono i pigiolini piccoli, 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 che non mi ricordo se sono i piccolini delle acciughe, ci sono solo, è permesso, era permesso, adesso non so, solo in determinato momento, la pesca di queste cose, che ci si fanno le frittelline, dei gianchetti e dei rossetti, la sentite, lo sentite, quei sono i gianchetti, nella canzone, Creosa de Ma, di De André, all'inizio e alla fine, ci sono queste voci del mercato di Genova, muscoli di spesa, e poi ce l'hanno con i muscoli spagnoli, i muscoli di spezia, che molti chiamano peoci in Veneto, e che chiamano anche, aspettate, com'è che si chiamano? Le cozze, ecco, noi li chiamiamo i muscoli, buoni, abbiamo tanti allevamenti, oltre Liga, intorno a Portovenne, davanti a Portovenne, insomma, quelle sono le nostre zone, e, vabbè, insomma, al di là delle frittelline, dei gianchetti, mi è venuta voglia di questi pescioletti, mi sono subito sentita, la bocca strana, vado a leggere questi, questi lattarini, che sapevo essere pesci di, d'acqua dolce, quindi ho detto, vabbè, invece no, di cosa si nutrono, di tante cose, soprattutto crostacei, io sono allergica ai crostacei, ma, mi sono sentita, la bocca strana, ma poi, cosa è successo, che mi si è addormentata, la bocca, per fortuna non si è gonfiata tanto, un fastidio al palato, alle gengive, la gola, le orecchie, e poi è partito subito, il bruciore, ma un bruciore, che, ai palmi delle mani, è sotto alla pianta del piede, e poi sono usciti i ponfi, da tutte le parti, mi sono diventata amata, come ho sentito già, quella reazione della bocca, ho detto aiuto, sono andata alla ricerca, dei miei antistaminici, perché, prima reazione, prendere quella, se poi avanza, e peggiora, o non si quieta, devo andare all'ospedale, ed è successo, più di una volta, purtroppo, insomma, non le trovavo, non trovavo, la mia cartellina, che tengo, me ne era rimasta una, la tengo, dico, nel posto più, cioè nel luogo, che io ho sempre con me, che dovrebbe essere il portafoglio, quando sono andata, dalle mie ragasse, con mia sorella, insomma, abbiamo fatto la festa, a Roma, in casa, dalla mia bambina, e le ho messe, in una borsettina, in un portalavoro, mille tasche, non mi sono portata, tutte le menate, delle bors, io non sono così, la borsa, le cose, se posso lasciare a casa, i pesi, non sopporto i pesi, io ho sempre, ho guardato agli uomini, che bello, che questi uscivano, sempre con le sole, le robe in tasca, cosa c'avevano, cosa c'avevano i maschi, un fazzoletto, cosa c'avevano, adesso non lo so, un fazzoletto, ben piegato, e stirato, mia nonna, e il portafoglio, le chiavi di casa, noi abbiamo le borse, che roba, insomma, l'avevo lasciate lì, ieri sera, io sono andata a guardare lì, ma non l'ho visto, ho tirato fuori, rimesso dentro, ho tirato fuori, rimesso dentro, ho di tutto, ho bigliettini da visita, ho cartellini, ha tre tasche, quella cosa lì, niente, ho guardato in tutte le borse, ho guardato in tutte le tasche, ho guardato in tutte le sacchette a porta lavoro, ho buttato all'aria allo studio, ho buttato all'aria, della mia camera, i cassetti, in bagno, dai medicinali, che non ce li ho ai medicinali, i miei medicinali cosa sono? Allora, ho le pastiglie per il gatto, di quando spende a mozzichi, ho la pomata antistaminica, per le pizzicate al volo, e poi parte questo, e cos'è che abbiamo? basta, non ho altro, non ho altro, non ho farmaci in casa, e la pomata di arnica, se proprio proprio la dobbiamo ritenere un farmaco, ma ecco, ho finito anche i granuli di arnica, per minuto, insomma, non l'ho trovato, ho fatto di tutto, sapete, la respirazione calma, mi sono data calma, mi sono fatta una camomilla bollente, ho detto, vabbè, vediamo, di attenuare, mi sono lavata la bocca, ho spazzolato da tutte le parti, per eliminare i vari residui, che potevano essere rimasti, ho bevuto, ho bevuto una camomilla bollente, per cercare di attivare la digestione, e poi ho cercato di stare calma, ho cercato anche di non scotennarmi, perché veramente ho un pruritto, e un bruciore che ce l'ha poco poco, mi è quasi andato via, quindi mi sono attardata, non sono andata a letto presto, perché ho detto, qui se mi prendo un coccolone, devo chiamare il vicino, ma dove mi faccio portare, da chi mi faccio portare, ecco, adesso che ne parlo, mi viene da grattare in vita, ma calma, 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 Lorenza, calma, 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 vedete, quando sulle confezioni troviamo, ci possono essere tracce di, tante persone non pensano, che è importante, per chi ha delle intolleranze, e delle allergie, a volte le intolleranze, si manifestano, come delle gravi allergie, dipende da, da che cos'è, che scatena, dipende, dipende dallo stato della persona, no, se ha avuto di recente o meno, ho già una manifestazione, io devo sempre tenere a bada, un valore, cioè si manifesta, insomma, sono portata a queste cose qua, e, e non c'era nessuno, una volta che mi è successo, a Eroca di Papa, ero già a letto, c'era un diluvio universale, all'improvviso, mi esce fuori, una orticaria, ma, terrificante, eravamo già letto da un po', nessuno ci ha chiesto, che cosa, avessimo, mangiato, bevuto, nelle ultime, tot ore, mi hanno sbattuto, una flebo, mi sono rimaste, mi sono stati lì, a tenermi sotto controllo, mia figlia terrorizzata, da Rocca di Papa, ad Albano, ogni un anno e secondo, e sono rimasta lì sotto flebo, ma, anche lì, ecco, quando poi, non vi consigliano, di, di investigare, che non vi fanno le domande giuste, nessuno pensa, dico, ma, avete mangiato qualcosa di particolare, qualcosa di diverso, anche una, anche una caramella, ma che me l'avessero fatto, a parte che ero talmente, terrorizzata, perché mi stavo gonfiando, quindi, mannaggia, e stamattina, ho detto, non è possibile, non è possibile, perché io le ho viste, ce le ho, ce le ho, non ho lasciato in giro niente, non, a volte faccio delle cose, da matta, come tanti, tipo, ieri, ho cercato, come una disperata, un barattolo di cibo aperto del gatto, e dico, ma dove posso averlo messo, che sono creativa, se sono sopra pensiero, che ne so, tipo, il mangiare del gatto aperto, che io chiudo con un tappo di silicone, potrei metterlo, anche nel cassetto delle mutande, se sono sopra pensiero, ho fatto cose che non avete idea, mi ricordo tanti anni fa, Castel Gandolfo era arrivata a casa, con una busta della spesa, le sporte di plastica, dentro c'era, mangiavo ancora il pane, ancora non lo facevo, il pane, c'erano dentro due cose di verdure, che ne so, il portafoglio, e il cellulare, ho aperto lo sportello del freezer, e ho messo dentro la borsa, tutta intera, come se fosse stata, non lo so, io non avevo neanche l'abitudine di riporre, magari hai l'abitudine di riporre la borsa al chiuso, e che ne so, perché eri lì, no, io la borsa la posavo nell'ingresso, sopra a un mobile, e stava lì, la borsa mia personale, se ce l'avevo, ma la busta della spesa, la posavo, di solito la posavo, sul tavolino di cucina, la cucina era piccolina, ma piccolina, ma abitabile, nel senso che c'era un tavolino a muro, ci stavamo, ci stavamo, a parte che abbiamo sempre, ci facciamo solo colazione, abbiamo sempre mangiato in sala da pranzo, con i vassoi sulle gambe, noi e Camilla siamo viziate così, insomma, insomma, quindi quando si è sopra pensiero, si fanno cose assurde, non lo so poi come mi venne in mente di aprire il freezer, perché non avevo niente da mettere nel freezer, tra l'altro, tra la mia spesa, quella cosa lì mia mi impressionò, e parliamo di tanti anni fa, parliamo veramente di tanti anni fa, ma tanti tanti, quindi pensare a un Alzheimer precoce, a quest'ora dovrei già essere del gatto, insomma, quando si è sopra pensiero, veramente, quindi stamattina sono andata a riprendere quella bustina, che poi vi farò vedere, in mezzo a tutte le cose, lei c'era, ma veramente ieri ci ho messo a mano, non sapete le volte, eppure dico, ma non ti vedo, a volte abbiamo le cose sotto agli occhi, e non le vediamo, non le vediamo, le abbiamo lì, sono lampanti, e non le capiamo, non le vediamo, non riusciamo proprio a dare senso a loro, a materializzarle, ecco, è preoccupante, è preoccupante, per tante cose, è preoccupante, preoccupante, per questioni di vita, o di morte, è preoccupante, insomma, mannaggia, il mio antistaminico, vedete, è lui, ecco, che ancora, la cosa che sta peggio è la testa, diciamo, ma dovevate vedere, i palmi delle mani erano bordeaux, proprio bordeaux, che poi non ha avuto un contatto diretto, con i pescetti, perché li ho sbattuti dentro a un, a un cestello fitto, insomma, tipo colino, li ho sciacquati, sbattuti, farino, non ho proprio toccati, praticamente, ecco, a volte, a volte cosa succede, quindi sappiamo, noi che siamo allergici ai crostace, se ce ne sono tra, tra gli ascoltatori, che magari non hanno pensato, chi lo sapeva, spargete il verbo, chi già sapeva, e non ho neanche controllato, se erano tra la lista dei miei probabili, però non avevo letto che era tra gli improbabili, comunque vado, a volte vedete una leggerezza, e chi segue questo nuovo, questo particolare piano alimentare, per gruppi sanguigni, ha già la fortuna di sapere cosa scartare a priori, poi si possono fare le prove, ecco, uno a digiuno assume un alimento, che dovrebbe essere no, e vede tempo o poco le reazioni tra la bocca, dipende dal tipo di alimento, e dipende da come si sensibilizza il corpo, quindi si hanno velocemente delle manifestazioni, basta imparare a capirle, uno dice, sono stressato, mi viene l'herpes, sì, vabbè, oppure, ah sì, sono stressato, mi vengono le afte, no, bisogna mettersi pace, perché non vorremmo sacrificarci i nostri alimenti preferiti, però, quanto benessere, quanto benessere, senza interventi esterni, ho portato nel mio corpo e nella mia vita, insomma, avendo capito, avendo anche, a parte che il metodo già ce l'avevo, perché mi interessavo di alimentazione, sono da 33 anni, quando è andata mia figlia, insomma, ci sono messa proprio di capa, da quando soprattutto Camilla, mentre ancora per fortuna la lattavo, ha patito di una gastroenterite terrificante, noi avevamo il pediatra due volte al giorno a casa, e io stavo in campagna, e veniva dalla città, ed era un medico che lavorava al Gaslini, e quindi aveva l'occhio, sapeva che per le emergenze, però finché c'ha il latte, cioè, lei ha il latte, bene, e quindi sì, le terapie, tutto però a casa, ci ha tenute a casa, per fortuna, ma è stato, mamma mia, due settimane, mia madre non riusciva a lavare, e far asciugare in tempo, le cose di Camilla, perché era un passare da tutte le parti, proprio, è stata proprio una paura boia, quella lì, anche per quello che sono andata tanto avanti, con l'allattamento, anche se ce n'avevo, e ho avuto problemi, perché non se ne andava, non se ne è andato, finché non sono andata a meno pausa, io ogni tanto avevo questi problemi, di produzione, con la, 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 ho fatto comunque, tutte le, gli accertamenti, tac, contro tac, risonanze magnetiche, tutto, la mia ipofesi, per fortuna, stava bene, chissà, quale alimento, chissà cosa mi scatenava, queste montate latte, terrificanti, però ecco, grazie a quello, e ad un medico cosciente, siamo potute stare a casa, ma due volte al giorno, e quando non riuscivo a venire, perché ne so, magari la mattina, è venuta la sera, telefonava, voleva sapere, i liquidi, mi sono concentrata lì, e allora ho detto, no, qua, qua bisogna capire, che cosa fa bene, cosa fa male, e non è stato facile, però ad esempio, riguardo, agli indici glicemici, ecco, ci stavo sopra da tempo, avevo capito, insomma, e avevo già distribuito, in maniera diversa, rispetto anche alla gola, che sono come tutti gli altri, insomma, le cose che ci piacciono, più o meno, sono quelle, la pasta, il pane, il pane buono, le farine belle, quando sento dire, è una ricetta sana, e dico, ma non dobbiamo dirlo, ognuno ha un suo modo, quello che è sano per me, ho visto che pratico questa cosa, ormai da tre anni e mezzo, è evidente che non lo è per qualche di un altro, quello che è positivo per me, a un altro gli fa venire un bubone sul sedere, quello che fa male a un altro, a me fa proprio wow, no? E insomma, ho trovato l'antistamerico, vi volevo parlare sì di questo, di queste cose qua, sì, 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 a volte non vediamo quanto abbiamo sotto agli occhi, quando siamo presi dal panico, soprattutto, le cose non si vedono, non si vedono, sono mantenuta calma, per fortuna l'ho superato, se no avrei dovuto comunque andare, sempre che, chissà, magari mi disperivano in un parcheggio, a grattarmi, se uno arriva in emergenza, senza i bolli, senza le marchette, senza gli abbonamenti, che adesso tocca a tutti, no? prima era uno libera tutti, due è meglio, tre è, hai fatto due, eh no, l'hai fatto l'altro giorno, eh no, 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 devi fare tre, quattro, cinque, sette, otto, quindi, ecco, ragioniamoci su, no? sulle bugie, su, le aggressività, perché bisogna essere aggressivi, nell'esporre un qualcosa, non bisogna, chi è aggressivo, cioè, proprio riconoscere le tattiche, no? riconoscere il metodo, è che ormai a tanti il bullo piace, eh, se uno è bullo e furbo, allora lui è bullo, dice che gli altri sono cretini, allora, ah, 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 lui è furbo, lui è, perché, c'è, è così, cretini tu, eh dai, su, forza, forza che ce la possiamo da fare, questa è la rosellina che ho preso ieri per mia sorella, la rosellina della Paulina, è profumata, poi ha un colore meraviglioso, qui c'ho il mielino, e poi lì nella campana, c'ho quanto è rimasto dell'oggi e poco, ieri sono stata generosa, ho voluto festeggiare mia sorella, anche con il vicinato, come faccio sempre, quando faccio i dolci, e siccome non avevo fatto pirottini a parte, ho fatto dei pezzoni, quindi ho fatto un quarto, l'ho portata alla Titti, un bel pezzo l'ho portato, la Titti ieri erano tre, erano a casa, e poi l'ho portato al mio vicino di qua, gli ho detto, colazione non ci arriva domani, mi ha scritto, glielo ho lasciato sulla ringhiera, che ci mandiamo il messaggio, ho lasciato la colazione sulla ringhiera, vabbè oggi magari gli diamo un altro pezzetto, che è la persona che mi aiuta, insomma, che se dovessi aver bisogno, insomma, aiuto, anzi oggi sapete cosa devo chiedere, se mi apre la bottiglia da 5 litri della candeggina, che io non ci riesco, non ci riesco proprio, come caspita le sigillano, e quindi ho bisogno della candeggina, allora, vi ho fatto vedere i guanti, ora carico questa chiacchiera, di compagnia, e poi oggi chiacchiereremo, di filati che non ci piacciono, che vogliamo smaltire, e che poi ci vengono anche a piacere, tra l'altro, del golf che ho cominciato a Federica, con il baby scuola, in un colore bellissimo, che nel baby scuola non c'è più, ma nell'onda sì, e mi sa anche nel caos, ho preparato la lista della spesa, non ve la racconto, lo vedrete quando arriverà solo il pacco, ma penso alla prossima settimana, perché Camilla mi sta facendo una lista, delle cose che le servono, che vorrebbe fare da qua all'estate, e quindi le vuole avere sotto il naso, è come la mamma, me ne diceva tutti colori, è come la mamma, se ce l'ha lì, almeno poi decide, e poi, di cosa vi chiacchierò oggi? Oggi facciamo il tutorial blu, promesso, poi, in questi giorni, voglio farvi anche il tutorial, quello del solo catenelle picco, con il rudis, lo rifaremo con il rudis, ma sì, con il rudis, lo rifacciamo, perché è bello, poi con il rudis voglio farlo, voglio fare questo quadratone, lo farò a bicolore, probabilmente perché, mi è stato regalato a Natale, ancora grazie, mi è stato regalato, ancora un po' di rudis, e quindi sì, voglio fare questa cosa, che rimanga in pizzone, lo voglio fare, non ho ancora deciso, se lo farò a crochet, o tricot, però voglio fare, questo grande quadrato, a diagonali, quindi partendo dal centro, anche ai ferri, sì, che avevo imparato, perché sono diventata cretina, per farlo, tutto l'avevo provato, con i ferri corti, con i circolari piccoli, poi alla fine, l'ho fatto con i doppi circolari, perché non ne uscivo fuori, però ce l'ho fatta, e poi voglio portare avanti, quel golfino lì a Camilla, avevo campionato, quel motivo, di mani di fata, allora, allora, venite qua, quando abbiamo delle righe, così simili, il motivo, consta di due ripetizioni, di due righe, quindi, sono quattro giri, praticamente, perché il giro di ritorno, si lavora, tutto a rovescio, salvo la cornice, che voi avete deciso di fare, se sarà uno scialle, o come volete fare il golf, insomma, è un golf a fare i dritti, e chi è bravo, se lo trasforma, a fare i storti, allora, sono quattro righe, una riga, il ritorno, tutto a rovescio, un'altra riga, il ritorno, tutto a rovescio, quindi, sono quattro righe, che si ripetono, ma due, in realtà, sono quelle, che dobbiamo ricordare, e sono simili, come si fa, per non confondersi, di riga in riga, perché quando partiamo, diciamo, oddio, ma cosa fa, dove sono, poi soprattutto, se c'è un filato peloso, non è semplicissimo, no, da vedere all'inizio ferro, che cosa abbiamo fatto, e allora si fa così, si scrive in grosso, quelle quattro cose sono, da una parte di un foglietto, e si scrivono le altre, dall'altra parte, e così, quando dobbiamo cambiare la riga, se non abbiamo ancora memorizzato, il nostro motivo, se non abbiamo ancora, non siamo in grado di riconoscerlo, nel suo evolversi, e ci sta, e anche quando sono semplici, oppure perché non ci abbiamo voglia, proprio di sbattimenti, e di memorizzare niente, allora scriviamo quella riga, su una parte di un foglio, e la seconda riga, la seconda ripetizione, la mettiamo dietro, e noi ci giriamo il foglietto, e ci diamo un ordine, quando lo giriamo questo foglietto, a inizio riga, o a fine riga, l'ordine, perché se una volta lo girate a inizio, anche quello vi può confondere, ecco la malizietta, ve l'ho messa a fine chiacchiera, quindi mi raccomando, provateci, perché quello è veramente un motivo, semplicissimo, ma io ho sbagliato miliardi di volte, perché non ci avevo la testa, perché ero distratta, perché avevo pensieri, ecco, e il momi, si è comportato benissimo, l'ho disfatto, ore e ore, ma stavi così messa, stavo così messa, e lui, proprio non si è fatto nodo, non ho dovuto patire, a volte sono andata indietro, di punto in punto, a volte proprio, rum, rum, tirato giù e basta, hai fatto sulla cake, che è ciccia, quindi le ho fatte tutti, le ho fatte tutti i disfacimenti, è andata bene, il momi mi piace, è perfetto, per quel tipo di motivo, ma capito lo stile, se avete sotto mano, la rivista, e vedete un po' come spiega, come sono, da modellare i vari pezzi, anche se siete all'inizio, più o meno, non tanto all'inizio, insomma, ce la potete fare, anche adattando, quello stile, quel tipo di golf, o le dimensioni, se vi va la vestibilità, con altri punti simili, non sono tutti uguali, punti retati, quindi a volte, con i ferri grossi, certi punti retati, manifestano dei buchi, troppo, troppo esagerati, e invece, in quel caso, ci sta, perché prende un bello spessore, perché ci sono dei passaggi obliqui, e perché il tipo di filato, si manifesta bene, ha la consistenza giusta, al cuore, e questi puffetti, di pelo, buffi, e quasi irregolari, a volte, belli folti, che rimangono piatti, però, non è un filato, che gonfia, intorno, in rotondità, non so come spiegare, poi lo vedremo insieme, ecco, va bene, io lo sto lavorando, con i ferri del 10, ma poi, avete la chiacchiera indietro, cercatevela, eh, là, dove parlo, del mani di fatta, vi auguro, ancora un buon lunedì, ci risentiremo, eh, a Dio piacendo, a Tessa mi ci permettendo, sto pensando, se prenderne una, oppure no, però no, no, la smaltisco così, mi finisco di grattare, il peggio è passato, il peggio è passato, a poi, ciao, a dopo, a più tardi, andiamo al sole, con la mini minu, eh, più tardi, andiamo a pranzare al sole, e, mi porterò la voramaglia, e anche la poltrona, perché, è bagnato in giro, sempre che il sole rimanga, eh, è bagnato in giro, purtroppo, c'è la ghiaccio, uh, ciao, buon lunedì, a tutti, ciao, Laura, ciao, Truni, ciao, Stefi, Stefi, ci se ne...